il mio personaggio è un cameriere annoiato di questo ristorante evidentemente è un giovanotto che ha fatto questo mestiere da tanti tanti anni ed è molto molto stanco questa è la mia prima esperienza al doppiaggio devo dire fantastica perché io uso molto la voce alla radio però qui è tutto diverso magico alla radio io vado molto abbraccio qui invece c'è il rigore di un copione e poi entrare in qualche modo nel personaggio che rappresenti per vivere questa magica avventura vorrei sicuramente al mio fianco i miei figli perché i bambini sono gli unici che possono seguirti in questa straordinaria magia ma io spero ci sia della magia latente in voi sicuramente nel nostro mondo esiste la magia basta saperla trovare e allora una carezza uno sguardo un sorriso questa è la magia se potessi avere un giorno in più come i due protagonisti di homeworld lo passerei sicuramente con mio nonno perché ricordo con gioia quando mi portava nelle aule di tribunale e si metteva questa straordinaria toga mi sembrava quasi un mantello magico in onward oltre la magia il pubblico si dovrà aspettare grande emozione una straordinaria avventura e poi questo rapporto magnifico tra tra questi due fratelli una grande storia di famiglia appuntamento il 5 marzo al cinema con il biglietto in mano onward oltre la magia sul sipario appuntamento il 5 marzo al cinema con il biglietto in mano onward oltre la magia